Il ghosting è quella simpatica situazione dove all'improvviso una persona scompare, svampato signori. Il giorno prima vi sentivate 20 volte all'ora, il giorno dopo scompare da Facebook, chi blocca su WhatsApp non se ne sa più nulla, insomma una personcina simpatica. Negli ultimi anni c'è stato un aumento esponenziale di questo fenomeno di desaparecidos, però siamo chiari e siamo sinceri, gli stronzi sono sempre esistiti, perché non c'è un altro modo di definirli. Sono stronzi. Il problema vero qual è? E' che se un rapporto al 90% è su internet, c'è molta più possibilità di scomparire e non pagare le conseguenze di questa scomparsa. Cioè, se tu ti frequenti con una persona dal vivo, la sera uscite insieme la vai o lo vai a prendere sotto casa, questa o questo non è che può scomparire nel nulla, perché alla fine tu hai tutto il diritto di presentarti sotto casa e dire «Oh ciccio, ma che fine hai fatto? Perché non rispondi ai messaggi? Perché mi butti giù il telefono? Sei impazzito?» Al contrario, se tu con questa persona ti ci vedi ogni tre mesi e il rapporto si basa quasi esclusivamente su messaggi su WhatsApp e tu ti fai trovare sotto casa di questa persona, lì sì che passi per matto e per uno stalker. Non ci vediamo mai, ci siamo visti due volte e ti presenti sotto casa, ma sei matto. Quindi non soltanto una persona ti sta mancando di rispetto, diciamo così, perché in effetti scomparire è una mancanza di rispetto, ma passi anche tu per quello strano o per quella strana. Oh attenzione, non sto dicendo che non possano esistere rapporti a distanza, cioè due persone si frequentano, poi che ne so, uno va in Erasmus e vabbè la sappiamo come va a finire, ma comunque potrebbe andare avanti. Oppure non sto dicendo neanche che due persone non si possano conoscere su internet, però il fatto che una relazione nasca e cresca totalmente sulla rete, ragazzi, non è una relazione, siamo sinceri. E quindi da una non relazione che cosa ti puoi aspettare? Un non comportamento. Esistono, e tutti quanti noi ne conosciamo più di una coppia, che continua a stare insieme semplicemente perché lasciarsi è troppo difficile. Voi immaginatevi di dare su un piatto d'argento la possibilità alla gente di scomparire, ma è ovvio che coglie l'opportunità al volo. E attenzione, non voglio giustificare assolutamente il comportamento, però le persone, già se non gli dai la possibilità e il motivo, si comportano da stronze. Figuriamoci, se gli dai la possibilità, che cosa ti puoi aspettare? Insomma, impariamo a distinguere quello che è una relazione da quello che una relazione non è. Perché va bene il trasporto mentale per una persona, va bene essere innamorati di una persona, però se con questa persona non possiamo parlare guardandola negli occhi e stringendole le mani, quello non è un rapporto.